in diretta con la zappa solleviamo questo guarda le forme in suo movimento guardiamo qui fammi ingrandire guarda che movimento sono tutte operose da questa parte soffermiamo qui qui ci sono le uova guarda quanti uovi ci sono sembra attivo e ben organizzato gli animali sono più organizzati dell'uomo guarda come si muovono guarda qua va un ritmo continuo e qua che c'è un vermiciatolo che millapiedi guarda guarda questo come si muove come si muove forse per me che sto cercando eccola qua 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 andrà sotto va bene qui mi trovo il mio orto sta dando la pulita l'erba